Allora, Brosco, la sensazione è che sei insostituibile per questo Pescara. No, non mi piace sentire questa cosa, mi piace sentire che tutti i compagni sono sul pezzo e fino adesso hanno sempre fatto bene e quindi bisogna dar merito a tutti. Ci dispiace anche che magari a volte il capitano non sia in campo perché anche dentro di Spoleto è una persona importante. Comunque chi è entrato fino adesso, anche ieri De Marino ha fatto molto bene. Bobben è un ottimo giocatore sia per categorie superiori e quindi secondo me hanno fatto tutti molto bene. Ti chiedo la partita con la Jebison, di analizzarla, una squadra che subisce pochissimo in trasferta. Jebison ha subito le stesse reti nostre, è una gara sicuramente molto chiusa, loro si chiuderanno per partirci in contropiede, dobbiamo essere pazienti e cercare di scardinarli piano piano, comunque mantenendo l'equilibrio. La Zeman come Colombo? Sono due allenatori bravi, bravi tutti e due, però hanno delle caratteristiche diverse però entrambi secondo me si può fare molto molto bene. Era questa la domanda per chiederti se vedi una stagione simile a quella del 2012 con la promozione? Sicuramente spero che ci sia lo stesso entusiasmo del 2012 di poter fare qualcosa di grandioso però ci sono altre due squadre forti e sono sicuro che ce la giocheremo con loro fino all'ultimo. Catanzaro-Protone e Tifi? Per il pareggio almeno perderanno entrambi un paio di punti.